Cos'è la dieta del sondino? La dieta del sondino è una dieta chetogenetica dal punto di vista scientifico. La chetogenesi è quella che succede, che accade nei bambini quando c'è l'acetone. Quindi è qualcosa che non è perfettamente ideale per il nostro organismo, però in particolare condizione controllata noi possiamo far sì che il soggetto non distrugga le proprie proteine e nello stesso tempo utilizzi queste sostanze, questi corpi chetonici che sono delle energie alternative affinché si possa distruggere il grasso e non distruggere la massa magra. Vengono iniettate tramite una macchinetta, tramite questa macchinetta, nelle 24 ore delle sostanze proteiche all'interno del nostro corpo e precisamente tramite il naso, tramite un sondino, il naso gastrico di 2 mm. Questa sostanza arriva nello stomaco, nel dodeno e viene digerita, viene assorbita. La quantità di calorie che si danno è erisoria, non conta il numero di calorie ma conta la quantità di sostanza che si dà in rapporto al peso ideale. Eseguiremo adesso dal vivo questa tecnica. La signora, la prego adesso di farmi qualche domanda su questa tecnica. Allora, si può fare attività fisica? No, non è possibile fare attività fisica, si può fare una vita normale senza forzare il numero di calorie, perché noi non diamo le calorie nelle 24 ore, diamo una quantità di calorie veramente erisoria, per cui l'organismo non riesce a sostenere un'attività fisica sostenuta di un certo tipo. Un'attività fisica normale, passeggiare, sì certamente, questo si può fare signora. Per quanto riguarda la doccia? La doccia si può fare, questa dieta sì è vero che si esegue nelle 24 ore, però abbiamo un margine di 2 ore, nelle quali noi possiamo fare quello che vogliamo, se vogliamo fare possiamo fare la doccia, se vogliamo toglierlo perché dobbiamo andare a fare le nostre funzioni in bagno, possiamo fare 2 ore e ci possiamo fermare, che è giusto così, agisce lo stesso. Si può staccare? Sì, è 22 ore su 24 in realtà. Ho capito. E per il resto è automatica? Sì, la macchina è automatica e funziona come un telefonino, si ricarica durante la notte per 6 ore da qua e resta accesa per 18 ore. Questa macchinetta signora le dà questa sostanza per 85 ml l'ora, nell'arco delle 24 ore e consumerà lei 2 litri di sostanza. Lei può bere durante le 24 ore? Sì, può bere, può bere del tè, può bere della camomilla, può bere dell'acqua normale, non può utilizzare zuccheri perché è ovvio che lo zucchero mi blocca la chetogenesi, cioè quello che noi vediamo all'obiettivo nostro, perché è fondamentale questo? Perché la chetogenesi non solo mi fa dimagrire il grasso, ma permette al cervello di non avere fame, lo sazia, perché il cervello utilizza i corpi chetonici meglio dello zucchero. Il soggetto ha bisogno quindi dell'assativi, un giorno sì, un giorno no, giorni alterni perché non diamo cellulosa. È chiaro che al posto dell'assativo l'ideale è fare l'idroconoterapia, cioè pulire l'indestino con questa tecnica che mi permette di pulire assolutamente l'indestino ma nello stesso tempo mi fa dimagrire anche un po' il paziente, ancora di più. Potrebbe essere con qualcosa in più rispetto anche alla dieta del sondino. Questo è il sondino nasocastrico della grandezza di 2 mm e della lunghezza di 90 cm. Andrà dentro dal naso, previo bagnarlo con un po' di l'uvan. Signora adesso lei mette un po' d'acqua in bocca, la trattiene, tenere l'acqua in bocca, quando le dico io le ingoia, signora. Va bene? Estenda poco a poco. Arrivo. Sono in gola. Ingoia, signora. Incomincia a ingoiare. Brava, 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 brava. Beva, man mano beva, signora. Brava, brava, brava. Abbiamo finito, abbiamo finito, signora. Adesso il sondino è posizionato a circa 60 cm dal naso, quindi la punta arriva più o meno all'udeno. Per sapere dove siamo arrivati bisogna andando a sfilare l'anima del sondino, che lo mantiene rigido e quindi facilita l'introduzione. ecco qua, grazie. Adesso introducendo un po' di soluzione fisiologica, un po' d'acqua dal sondino, vado a percepire con il fonendo, i rumori gastrici e in questo modo, all'ascoltazione, avverto che il sondino viene posizionato proprio nello stomaco. Dopo questa operazione posso fissare il sondino. rimarrà in situ 10 giorni. Applicherò degli adesivi trasparenti in modo da rendere accettabile la presenza del sondino anche dal punto di vista estetico. Adesso il sondino è posizionato e può restare in situ 10 giorni. Gli adesivi si possono cambiare, viene data alla paziente una scorta di adesivi per poter continuare in questi 10 giorni. E per concludere bisogna dire che, come in tutte le diete, il pericolo è dietro l'angolo, cioè la ripresa dei chili. E allora si fanno due settimane di mantenimento, una settimana con una dieta proteica e una settimana di una dieta normale con i carboidrati. Finiti questi 25 giorni, l'ipazienda ha sicuramente perso il 10% del suo peso.